Con più di un mese di anticipo sulla prima gara casalinga della Serie C 2024-2025 prevista il 2 settembre al Benelli con l'Arezzo, la Vispesoro ha presentato oggi la sua campagna abbonamenti nella sede del main sponsor Tecnoplast, che ancora una volta l'accompagnerà nel suo settimo anno consecutivo in Lega Pro. Presentata una tessera casalinga che avrà alcune proposte promozionali, a cominciare da un abbonamento in tribuna Prato o in laterale al prezzo di 100 euro per chi non si è mai abbonato alla Vispesoro. La Prato e la laterale per chi non si è mai abbonato 100 euro, 100 euro quanto spediamo per ogni partita 7,9, 8 euro insomma una cosa veramente minimale, è un acquisto di questo abbonamento per sostenere la Vis e per presidiarla poi durante il campionato. Promozione per i nuovi abbonati ricalibrata ad 80 euro per le tessere ridotte riservate a donne, over 65, under 21 e appena 20 euro per il ridottissimo dedicato ai bambini fino a 13 anni. Stessi prezzi e stessa promozione anche per i primi 200 vecchi abbonati che si presenteranno al botteghino. Ancora 100 euro per la Prato e la laterale per i primi 200 sportivi, tifosi, sostenitori che si presenteranno al botteghino. I primi 200 anche se sono abbonati già da diversi anni usufruiranno di questo prezzo. Non ancora comunicata la data di partenza del Via e i tesseramenti con annessa promozione, una promozione dalla quale esclusa la tribuna coperta il cui abbonamento costerà 300 euro. 150 invece il prezzo senza promo per Prato e Tribuna laterale. Sono leggermente aumentati ma perché anno scorso non c'erano le due partite iniziali che come ben ricorderete le prime due la Vispesa le ha giocate fuori casa per l'indisponibilità del campo e le andammo a giocare a Recanati quindi non era giusto inserirle nella campagna abbonamenti. È un'opportunità per la città, un'opportunità per gli imprenditori, è questo campionato di Lega Pro quindi la presenza dovrà essere numerosa, incentivata e noi faremo di tutto per far sì che questo accada.